Un pentito indica un luogo preciso a Casal di Principe. In quel terreno sarebbe stata sversata una quantità impressionante di rifiuti tossici. I carabinieri del Noe ci credono e vanno sul posto e iniziano a scavare un'operazione che è andata avanti fin dalla mattina e proseguirà fino alla notte. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche l'ARPAC, i vigili del fuoco e i vigili urbani della zona. E intanto però la protesta del fronte del Noe si sdoppia anche a Giuliano. Per mobilitarsi contro la costruzione del termovalorizzatore verranno istituiti due presidi fissi. Il primo sarà ridosso dell'inceneritore, mentre il secondo verrà istituito proprio al centro di Giuliano, con l'intento di spiegare e informare la cittadinanza. E' tutta l'area che è una bomba ecologica. La dimostrazione che la dichiarazione del pentito oggi ha creato un grosso allarme sta tutto negli uomini che continuano a scavare, con le tute anti-inquinamento, con i presidi di sicurezza, con l'attenzione e con la paura che lì sotto ci possa essere qualunque cosa. Gli operatori sul posto hanno ripreso la scena, poi a un certo punto l'area è stata fatta evacuare. Chissà cosa si nasconde sotto quei terreni.